Era il 26 febbraio quando gli operai della Castellabate Servizi ripulirono ed abbellirono il monumento ai caduti davanti alla Casa Comunale in Piazza Lucia, ripristinando anche l'integrità del monumento, restituendogli la giusta dignità. Un atto di civiltà per valorizzare un simbolo così importante per la memoria collettiva e che purtroppo si trovava in uno stato di conservazione critico anche a causa di atti di vandalismo. Lo scriveva il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri lo scorso 26 febbraio facendo appello al senso civico di tutti i cittadini e soprattutto dei più giovani che, a quanto pare, il messaggio non lo hanno recepito. Infatti nella serata di ieri un gruppo di ragazzi agiva proprio contro il monumento. Il primo cittadino ha pensato di rendere pubbliche le immagini, i teppistelli della notte ancora una volta in azione contro il monumento ai caduti. Se qualche genitore riconoscesse un proprio figlio farebbe bene a vergognarsi. Questo il commento postato sui social. Non si dovrebbe mai sentire la necessità del controllo, rischiare di incorrere nella denuncia o essere oggetto di richiamo per tutelare il bene comune, conclude il sindaco Maiuri. Recentemente anche la casa comunale è stata oggetto di atti vandalici con la rottura dei vetri della porta di ingresso laterale.